Siamo qui con il Presidente della Camera di Commercio di Italo-Russo, Rosario Alessandrello. Allora, Presidente, facciamo un buon bilancio di questo 2017 che sta per terminare. Dunque, il 2017 è stato l'anno di svolta nell'interscampio di Italo-Russo. Infatti, mentre prima, fino al 2016, c'era sempre un grolo annualmente, una diminuzione dell'interscampio, con il 2017 l'interscampio è incominciato a crescere. E non solo è cresciuto quello dell'importazione dei prodotti russi in Italia, ma anche quello dei prodotti italiani in Russia. Praticamente c'è un interscampio che ha superato oltre il 25-26% che è in aumento. Questo deriva da due fatti fondamentali. Da un lato l'Italia ha importato molto più gas di quanto ne aveva importato nei primi anni delle sanzioni e dall'altro lato, e anche con maggiore costo, vista la rivalutazione che ha avuto il pezzo del petrolio. Dall'altro lato, invece, l'Italia ha importato perché l'impresa italiana, con la sua flessibilità, si è molto adeguata al problema delle sanzioni. E' incominciata a correre ai ripari, apprendo tutta una serie di personalità giuridiche sul territorio russo che gli ha permesso di evitare molte delle dugane che mettevano fuori mercato i propri prodotti. E quindi questo ha provocato un aumento della produzione del made in Italy che viene venduto in Russia rispetto a prima. Ecco, un'altra delle operazioni che è stata fatta negli ultimi due anni è che le imprese italiane, quasi tutte le imprese italiane che hanno tenuto e stenevano al mercato russo, hanno adeguato, attraverso le personalità giuridiche russie, di fare parte delle felire della lavorazione in Russia e anche l'assemblaggio, o perlomeno anche l'assemblaggio finale, che gli ha permesso di evitare dugane molto pesanti e che rendevano i prodotti non più competitivi. Un'altra delle cose che invece è eventi che ha seguito il 2017 è che si è fatto in Russia, a Mosca, il famoso Consiglio di Cooperazione. Il Consiglio di Cooperazione che viene fatto una volta all'anno, che è stato ripreso per la prima volta dopo una sospensione di diversi anni l'anno scorso a Roma, è stato rifatto quest'anno a Mosca. Ed è venuto fuori, cioè io le dichiarazioni che ho fatto riguardano il fatto che ancora molte delle imprese italiane non conoscono, non hanno, non sono in grado di sapere, di distinguere le capacità e le possibilità di investimento che ci sono in Russia. Cioè non conoscono i contratti speciali, non conoscono i fondi di investimento che aiutano la piccola e media impresa a operare in Russia, non conoscono le zone economiche speciali, i parchi industriali, con una serie di agevolazioni. Questo deriva perché la stampa italiana, praticamente anche quella specializzata, non parla, parla molto poco del mercato russo e di tutte le possibilità che ci sono sul mercato russo. Quindi questa è una delle cose che la Camera di Commercio, dei ruoli che la Camera di Commercio si è assunta in questi due anni e tre anni da quando ci sono le sanzioni. E questo lavoro è diventato sempre più, si è sempre più allargato. Infatti noi pensiamo che ancora il 2018, non solo perché molte regioni russe vengono in Italia e per loro la Camera è la casa in Italia dei russe, ma anche noi portiamo molte regioni italiane in Russia e facciamo i contatti con quelle regioni russe che hanno la disponibilità, l'esigenza di quel tipo di prodotto, di quel tipo di lavorazione e quindi li facciamo incontrare. Facciamo tutta un'operazione di partenariato per i russi in Italia e per gli italiani in Russia. Tornando a parlare un po' della situazione delle sanzioni, lei cosa si aspetta che avvedrà nel 2018? Secondo me le sanzioni in Russia, già incomincia l'Europa a parlare che verrebbe la pena incominciare ad aprire un dialogo per, come vedere, non dico per eliminare subito tutte le sanzioni, ma per incominciare ad avere un dialogo che permetta l'arrivo di eliminare parzialmente le sanzioni. E questo è a livello europeo. Ma a livello italiano, secondo me, ci sono le possibilità, specialmente nel campo dell'agroindustria, nell'alimentare, che l'Italia dispone di alcuni prodotti che sono tipici e che non possono essere esportati né come lavorazione né come distribuzione. E questo discorso su questi prodotti può il governo italiano affrontare con i russi, che se lo aspettano, una trattativa che può far accedere ai consumatori italiani, ai consumatori russi, questi prodotti che sono oggi sanzionati, che potrebbero non essere sanzionati, perché non possono essere che importati solo dall'Italia, solo da determinate regioni. Inutile dire dal Permigiano al Vesauro Valtellenese, ad alcuni particolari prodotti alla mozzarella di bufala, sono tutte cose che in Russia non possono essere prodotte, perché non possono essere prodotte non in Russia, ma in nessun altro luogo, fuori che o da Salerno, o per la bufala, o nel Permigiano-Riggiano, Lodigiano, Permigiano, in Italia, oppure nella Vartellina per la Belisauro, insomma, sono tutti prodotti. E ci sono una serie di prodotti che sono praticamente ben definiti, ben definibili, che possono essere trattati a livello governativo per vedere come togliere queste controsanzioni da parte russa, che tutto sommato servono solo a privare i consumatori russi, che devono venire e che lo fanno, vanno in altri paesi per pigliare i prodotti italiani. Ultima domanda, parliamo un po' delle iniziative della Camera di Commercio Italo-Russa per il 2018, che è ormai alle porte. Ci sono noi, sia come nel 2017 e nel 2016, ci sono alcune azioni che sono ripetitive, cioè quello di vedere come dare tutta la maggior informazione alle imprese, sia italiane per operare in Russia, sia quelle russe per operare in Italia, e questo viene fatto con continuità. Però ci sono anche alcune cose che vengono fatte ormai con la stessa continuità, che sono il Consiglio di cooperazione, come si è stato fatto l'anno scorso, nel 2016 a Roma, nel 2017 a Mosca, sarà sicuramente fatto con i nuovi governi, perché sia l'Italia che la Russia in primavera avranno i nuovi governi, e quindi decisamente stabiliranno poi una data dove fare il Consiglio di cooperazione. Sicuramente ci sono tutta una serie di attività, che noi, più che convegne, anche fiere, eccetera, che vengono curate da noi. Per esempio tutte le fiere specializzate in Italia vengono da noi curate, dove portiamo dei buyer russi in Italia, ovviamente con il contratto con le fiere. Grazie. Grazie. Grazie.